L'Olimpia agnonese batte l'Avastese per 3 a 2 in un'ultima di campionato che regala grandissime emozioni. Ma andiamo subito alla cronaca di questo match che ha visto i padroni di casa scendere in campo ben organizzati, tecnicamente ma soprattutto psicologicamente, per affrontare una squadra che pure si giocava la salvezza diretta. Al sedicesimo minuto è subito brivido con Shiba che approfittando di un erroraccio della difesa Granata, soprattutto di Maraolo, insacca con gran facilità il gol dell'1-0. Al ventunesimo tenta di rispondere Lagnone con Albanese che ci prova di testa su corner di Ricciardi ma Stivaletta salva la situazione. L'azione non si interrompe, Cebagarri in area e Formuso viene atterrato dai arrocci. Per il direttore di gara il signor Vingo della sezione di Pisa non ci sono dubbi, è rigore. Al dischetto va Ricciardi che ristabilisce la parità in campo. Al ventisettesimo Lagnone tenta di allungare le distanze con questo bel cross di Ancora che però finisce in corner. E al trentottesimo, stavolta sugli sviluppi di un calcio d'angolo, è Bisceglia che va al lato di pochissimo. Sul finire del primo tempo, al quarantacinquesimo, la nuova svolta è il traversone di Corbo che, accompagnato da Del Duca, finisce per bucare la rete di Patania per il 2-1. Sul vantaggio Granata, dunque, si vanno gli spogliatoi. Con le immagini di Francesco Di Rienzo, eccoci nella ripresa, ed è subito brivido al secondo minuto con questo tiro da fuori di Ancora che va fuori di un soffio. All'ottavo minuto, ancora padroni di casa protagonisti, con una bella azione, gli dà il via Ricciardi da centrocampo per Ancora che serve barbato, ma il suo sinistro non inquadra lo specchio della porta. Intanto, la vastese si affaccia dalle parti di Maraolo, per la prima volta in maniera insidiosa, gol a parte. Al dodicesimo c'è questo cross di russo che Leonetti di testa tenta di trasformare, ma non inquadra lo specchio della porta. Al sedicesimo è sempre Leonetti che va al lato di poco, con un tiro dal limite dell'area. Al diciannovesimo gli abruzzesi si fanno sempre più insidiosi sugli sviluppi di questo calcio d'angolo, ma Maraolo è bravo a salvare tutto. Al ventiquattresimo è Sciba che con un tiro da fuori mette i brividi, ma il suo tentativo si ferma sulla traversa. Al trentunesimo Formuso, servito da Ribeiro, di testa, mette la firma sul 3-1, mettendo in cassaforte la vittoria. Una vittoria minata da questo tentativo al trentasettesimo da Cappellupo, che sugli sviluppi di un corner becca il palo. E al quarantatreesimo, con il gol di Leonetti, un errore della difesa granata, una palla che sembra danzare sulla traversa, ma alla fine si insacca per il 3-2 finale. Una gran prova quella dell'Olimpia agnonese contro la Vastese, che a un certo punto pure ha dato del filo da torcere. Si replica domenica 12 maggio, alle ore 15, stavolta all'Aragona di Vasto, posta in palio, la permanenza in Serie D.